SACMI Packaging & Chocolate è la divisione del gruppo SACMI che progetta e produce macchine per la produzione e il packaging del cioccolato. Vantiamo più di 100 anni di tradizione e esperienza in questo campo grazie anche alle competenze dei nostri brand storici come Carle Montanari e OPM. Ad oggi siamo l'unica azienda al mondo che realizza linee complete per la produzione e il packaging del cioccolato oltre al confezionamento primario e secondario di prodotti food e non. Il nostro patrimonio di competenze e capacità ci consente di creare soluzioni innovative, spesso rivoluzionarie, come la nuova incartatrice per tavolette di cioccolato chiamata HTD, progettata grazie alle tecnologie e alla consulenza di Schneider Electric. La macchina riesce a offrire una velocità molto più alta rispetto a risoluzioni tradizionali con 250 confezioni al minuto, gestendo in modo totalmente innovativo tempi, pressione e temperatura nelle fasi di saldatura degli incarti interni. In questo modo riusciamo ad adattarci facilmente ad ogni genere di prodotto da confezionare, ai materiali di incarto più svariati anche quelli di nuova generazione di tipo ecosostenibile. La scelta chiave è stata quella di rivoluzionare l'architettura tipica di queste macchine installando 40 azionamenti indipendenti in termini di comando e di profilo di moto, che condividono però l'alimentazione tramite un DG Plus comune. Grazie a questa architettura elettronica adottata, i motori vengono usati anche come generatori di energia, consentendoci così di ridurre i consumi fino al 40% rispetto a una soluzione tradizionale. Tutta la componentistica Schneider Electric della gamma Pack Drive 3 è dotata di capacità di raccolta e di trasmissione dei dati sul proprio funzionamento e sui propri consumi. Questo permette, attraverso un sistema di controllo, di disporre di informazioni che evidenziano eventuali rischi di guasto o rottura in ogni singolo motore, fermando la macchina prima che si verifichino dei danni. Abbiamo trovato in Schneider Electric le tecnologie e la capacità di consulenza che ci servivano per progettare una macchina di nuova generazione, capace di superare gap produttivi e operativi, ottenendo nuovi livelli di prestazione nel confezionamento delle tavolette di cioccolato. Grazie.